Vorrei che tutti rispettassero la natura, soprattutto che si testa ai bambini la possibilità, ai bambini di oggi, la possibilità di poter vedere il futuro, di poter vivere in un futuro migliore. Tra poco su questo palcoscenico salirà l'ultimo artista di questo momento, questo è stato il Nat Geo Mai, il concerto in occasione della giornata mondiale della terra organizzato da Nat Geo Music. Sono state dette tante cose su questo palcoscenico, mi auguro soltanto che queste cose da adesso, da subito, possono diventare dei piccoli gesti concreti.